Apriamo questa prima edizione del nostro giornale con le parole pronunciate da Papa Francesco questa mattina nel corso dell'udienza generale del mercoledì in cui ha spiegato che meditare è un modo per incontrare Gesù e anche ritrovare noi stessi. Il Santo Padre poi ha specificato che meditare è importante per tutti gli uomini ma per i cristiani lo è ancora di più. Allora ascoltiamo insieme le parole del Pontefice. La pratica della meditazione ha ricevuto in questi anni una grande attenzione. Di essa non parlano solamente i cristiani. Esiste una pratica meditativa in pressoché tutte le religioni del mondo. Ma si tratta di un'attività diffusa anche tra le persone che non hanno una visione religiosa della vita. Però ci accorgiamo che questa parola, una volta accolta in un contesto cristiano, assume una specificità che non deve essere cancellata. Meditare è una dimensione umana, necessaria. Ma meditare nel contesto cristiano, noi cristiani, va oltre una dimensione che non deve essere cancellata. La grande porta attraverso la quale passa la preghiera di un battessato, lo ricordiamo ancora una volta, è Gesù Cristo. Per il cristiano la meditazione entra dalla porta di Gesù Cristo. Anche la pratica della meditazione segue questo sentiero. Il cristiano, quando prega, non aspira alla piena trasparenza di sé. Non si mette in ricerca del nucleo più profondo del suo io. Questo è illicito. Ma il cristiano cerca un'altra cosa. La preghiera del cristiano è anzitutto incontro con l'altro. Con l'altro ma con la maiuscula. L'incontro con il trascendente, con Dio. Se un'esperienza di preghiera ci dona la pace interiore, o la padronanza di noi stessi, o la lucidità sul cammino da intraprendere, questi risultati sono, per così dire, effetti collaterali della grazia della preghiera cristiana, che è l'incontro con Gesù.